Siamo a Roma in occasione della presentazione di Ispor Italy Roma Chapter. In tale occasione abbiamo avuto modo di parlare con il professor Francesco Saverio Mennini, Research Director CEHTA della Facoltà di Economia Torvergata di Roma. Allora professore, innanzitutto cerchiamo di capire di cosa si occupa l'Ispor Italy Roma Chapter. L'Ispor Italy Roma Chapter è un'emanazione dell'associazione internazionale Ispor International che è l'associazione di farmaco economia a livello internazionale e nei vari paesi sono attivi i vari chapter, in buona sostanza i chapter dei singoli paesi cercano di confluire, far confluire le conoscenze a tutti i livelli del settore sanitario in maniera tale che possano dialogare ed affrontare quanto a livello nazionale e internazionale si produce in materia di farmaco economia. Professore, andando in più nel dettaglio, quali sono le finalità nei progetti che analizzano gli aspetti metodologici della farmaco economia e dell'outcome research? All'interno del nostro chapter, seguendo sempre il dettato dell'Ispor International, abbiamo già attivato una serie di progettualità multidimensionali, come dicevo precedentemente, appunto che vedono intorno allo stesso tavolo tanti decisori pubblici, quanto i privati, quanto l'accademia, quanto le associazioni scientifiche e dei pazienti. Le tre progettualità già partite riguardano prevalentemente tre aspetti molto importanti dal punto di vista tanto dell'impatto di alcune patologie in Italia quanto anche dal punto di vista metodologico. Il primo aspetto a cui ci teniamo molto è che l'Ispor Italy Rome Chapter insieme all'AIFA è stato indicato quale partner all'interno del progetto Eupati Italia, che fa parte del progetto più allargato Eupati in Europa relativo alla formazione dei pazienti in materia di ricerca e sviluppo dei farmaci, in materia di legislazione farmaceutica e anche e soprattutto in materia di farmaco economia. Questo quindi è il primo progetto che è partito all'interno del chapter. Il secondo progetto è un progetto relativo alla valorizzazione e alla evidenziazione delle utilità espresse dai pazienti in Italia per macrocategorie di patologie, in maniera tale da agevolare poi la definizione e il calcolo dei cuoli in Italia in maniera appropriata. Il terzo progetto che già è partito è una collaborazione insieme all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, all'Inps, in materia di costi sociali e costi indiretti, in maniera tale da andare a valutare l'impatto delle varie patologie nel nostro Paese che si riflette nell'impatto economico e quindi a valutare il peso che il sistema previdenziale giocoforza deve sostenere a causa o del ritardato accesso delle cure o dell'inappropriatezza delle cure che vengono erogate all'interno del sistema sanitario o causa delle inefficienze gestionali del sistema stesso. In questo caso partecipiamo insieme al progetto Fit for Work Europa, partito con le malattie muscoloscheletriche, proseguirà sull'oncologia e sull'oculistica. Professore, quindi ha accenato a tre progetti attivi, in realtà ci sono anche dei progetti futuri che state iniziando a condividere anche tra i diversi attori, di cosa si tratta? Sì, l'aspetto importante è che a seguito anche dell'attivazione di questi tre progetti e già avendo visto anche i primi risultati di questi tre progetti, sono stati attivati altre due linee di ricerca e progettuali all'interno dell'ISPOR Italy Rome Chatter, una relativa ad andare a valutare l'impatto in termini di burden of disease del diabete in Italia basandosi sull'analisi di real data, quindi dei dati reali sul territorio e la seconda progettualità è una progettualità che tende a valutare l'impatto che fino ad oggi si è venuto a determinare a seguito degli studi di farmaco economia relativi ai vaccini e alla prevenzione. Sono due progetti che vedranno coinvolti sempre in un'ottica multidisciplinare che è tipica dell'ISPOR Rome Chatter, tanto le aziende chiaramente quanto i ricercatori universitari, tanto economisti quanto clinici, infettivologi, epidemiologi ed anche i decisori, tanto a livello nazionale quanto a livello regionale, in modo tale da riuscire finalmente a comprendere quali potrebbero essere i percorsi più corretti da seguire per garantire un corretto accesso alle cure appropriate e dall'altra parte quindi a impiegare nel miglior modo possibile le risorse a disposizione. Seda, come mai appunto questo ISPOR Italy ha come denominazione Rome Chapter? La denominazione Rome Chapter non sta ad individuare la localizzazione delle attività che vengono svolte dal chapter stesso, il chapter è a livello nazionale però la sede è la sede dell'università del centro di economia e valutazione economica HTA di Tor Vergata in quanto la sede segue il presidente, essendo attualmente il presidente la sede è stato deciso metterla per questi primi tre anni a Roma, posizionarla a Roma, poi quando verrà il nuovo presidente eletto si deciderà se spostare o meno la sede, però questo è l'unico motivo per cui si chiama Roma, non perché è limitato all'area territoriale romana o laziale ma anzi è a livello nazionale e anche internazionale.